E' più elegante. Novità quest'anno ce ne sono tante, partendo da aziende che vengono da Foggia, da Bari, che prima non si erano mai affacciate. E in più da quest'anno in poi parte il nuovo progetto, partendo sempre da Trani Sposi, del Wedding Tourism. Principale novità di questa edizione, promossa dall'agenzia ML di Michele Lattanzio, il Wedding Tourism. Un progetto che mira ad accorpare ristoranti, alberghi, wedding planners, fotografi di more storiche, con l'obiettivo di avviare collaborazioni verso mercati europei ed extraeuropei. Un'occasione importante nell'ottica di promozione e valorizzazione del nostro territorio. Questa quindicesima edizione ne è la testimonianza che saper coniugare i valori del territorio con la capacità imprenditoriale, quella espressa dal signor Lattanzio, che mette insieme e coniunga paesaggio e ricchezze di produzione del nostro territorio, fanno della Puglia un valore aggiunto. Valore aggiunto che viene determinato dal nostro paesaggio, dalle nostre condizioni climatiche. E oggi il progetto del Wedding Tourism risulta vincente, grazie alle capacità di saper coniugare il valore della terra con le capacità attrattive dell'impresa, attraverso anche e soprattutto Trani Spusi, che è ormai un punto di riferimento per tutta la Puglia.